Noi siamo felici sempre di partecipare a questi eventi perché ci fanno sentire la vicinanza della società civile e vi assicuro che in ospedale sentire la vicinanza dei cittadini è di fondamentale importanza. 50.000 euro donati alla Fondazione Santo Bono Pausillipon. È stato questo il grande gesto di solidarietà presentato nel corso della serata Love Your Energy. L'iniziativa organizzata da Five Italia Group, dal presidente Valerio Bonocore, che ha visto più di 1200 persone a correre al Palapartenope per donare con il cuore. Da tutta Italia sono arrivati per celebrare i successi non soltanto del gruppo, ma anche per partecipare a un evento che ha visto protagonisti i cantanti Povia e i Color. Se pensiamo che sono passati pochissimi anni, era il 2012 quando abbiamo iniziato questo percorso e in tempi brevissimi abbiamo scalato tutte le vette del mercato nazionale. Oggi Five conta oltre 1200 agenti che spaziano a Pordenone fino a Catania e davvero siamo contenti di quello che si è fatto.